vabbè adesso vediamo allora siamo con l'amico carlo e il re carlo che ha trovato uno qua due qua poi ci spostiamo ci spostiamo dove stiamo qua non voglio pestare niente questo ha dice carlo che non si riesce a togliere adesso ci proviamo e poi ne ha trovato uno bellissimo manico d'ombrello manico d'ombrello dice poi senza pestare niente ci spostiamo qua che ha trovato questo bellissimo è uno spettacolo oggi un po più in là dove li ho trovati prima troviamo questo va così oggi visto uno e lo raccogliamo bellissimo poi ci spostiamo scendiamo appena tema qua è tutto è tutto un fungo ragazzi qua è una roba esagerata oggi raccogliamo questo splendore poi ci spostiamo appena e andiamo a raccogliere questo che fungo che che fungo che che fungo boom figa con quelli che cerco carlo no ti prego ho distrutto il mio fungo guarda sono scivolato che siamo lo che ho distrutto cioè coccane qua sotto ce n'è un altro spostiamo più piccolo ma bello ormai non capisco più niente oh scusate ma stavo parlando con i miei amici di youtube che funghi che funghi che funghi che funghi che robe belle o 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